La cultura come strumento per raggiungere i propri obiettivi di vita, impegnandosi nel quotidiano con profitto ed entusiasmo. E' ciò che hanno imparato alcuni meritevoli studenti tarantini prossimi alla maturità, che ieri sera sono stati premiati dal Rotary Club di Terra Ionica, ricevendo il riconoscimento della 27esima edizione del premio Giuseppe Spartera. Grande emozione nella consegna di questi riconoscimenti a questi ragazzi, ragazzi del futuro, del nostro futuro. Effettivamente è palpabile questa emozione ed è un'emozione che noi a Rotary di Taranto viviamo da 27 anni perché questo premio, il premio Giuseppe Spartera, ha questa anzianità. Siamo riusciti anche quest'anno a selezionare con l'aiuto dei presidi gli studenti sicuramente più meritevoli e nel corso degli anni noi molti li abbiamo seguiti e non a caso poi spesso ci siamo trovati a premiare quelli che erano stati a 18 anni destinatari di questo riconoscimento anche al momento della laurea perché noi tradizionalmente nel mese di maggio premiamo i ragazzi delle scuole superiori e nel mese di giugno quelli dell'università. E quindi il mese prossimo, il 14 giugno, ci saranno delle borse di studio per i migliori studenti dei nostri corsi universitari e molto spesso nel tempo ci siamo trovati a premiare all'università, già i laureati della nostra università che avevamo premiato negli anni passati proprio al liceo. Quindi diciamo che c'è un'attenzione, un reclutamento e un talento che emerge subito e che per fortuna poi continua ad affermarsi. Maristella Cacciapaglia, studentessa del quinto anno nell'Istituto Salisano di Don Bosco di Tavanto. Un'occasione è quella della cultura che deve rivelarsi preziosa per tutti voi giovani. Sì, sicuramente. Infatti io sono molto contenta di aver ricevuto questo premio e spero che questa esperienza possa essere anche vissuta da altri ragazzi che quindi spero si impegnino sempre di più nella scuola perché non è la scuola solo un qualcosa di ente, qualcosa di meccanico da fare ogni giorno ad alzarsi la mattina alle 7 e mezza per poi stare a lezione alle 8. No, anche i sessantuntini, tutti gli studenti, abbiamo appunto combattuto per far sì che la scuola sia qualcosa che realmente servi alla vita che serve appunto a farti aprire una possibilità nella realtà, una possibilità reale e che quindi anche in un particolare caso è quello che appunto sto facendo il quinto anno quindi darò la maturità e poi dovrò scegliere per l'università e quindi per il mio futuro. Questa scuola, la scuola, l'impegno scolossico deve anche aiutare i ragazzi a fare la scelta giusta non condizionata da cosa farò, riuscirò quindi ad avere lavoro con questa università se no allora è meglio abbandonarlo. Bisogna fare ciò che si piace perché facendo quel che si piace, si è felice e si arriva anche ad avere un posto fisso e realizzarsi comunque. Sicuramente parlo dico, parliamo la storia che c'è legata al palazzo degli uffici e noi sappiamo che quelle imparcature che ci sono lì davanti al palazzo degli uffici nonostante queste imparcature...